A tutte le caratteristiche di un piano strategico di cui si dotano anche le aziende, il progetto Requaro Terme Rigenera, presentato ieri mattina dall'amministrazione comunale e da Iscom Group che ne ha curato la realizzazione. Nel 2022, spiega il sindaco Armando Conegato, abbiamo commissionato uno studio approfondito delle dinamiche territoriali per individuare punti di forza e debolezza, ma soprattutto le linee di sviluppo strategiche su cui concretizzare il progetto di rilancio di Requaro Terme. L'esperienza di Iscom Group ci ha permesso di mettere insieme una prima analisi preliminare che ha rappresentato il supporto fondamentale sia alla realizzazione del distretto del commercio Requaro Valli del Pasubio, sia alla candidatura al bando dei Borghi, che ha poi assegnato a Requaro un fondo di 20 milioni di euro tramite PNRR, che di fatto permetterà di riqualificare luoghi simbolo, ma anche di costruire una nuova offerta di servizi per la popolazione e i visitatori. Il lavoro presentato ha inteso mettere a sistema idee, progetti e interventi per la rigenerazione e valorizzazione del territorio, sia in essere o in programma, affiancando ulteriori proposte a cui dare forma con un orizzonte temporale di medio e lungo termine. Nei prossimi mesi si svolgerà una fase di condivisione con i diversi attori territoriali allo scopo di coinvolgere e rendere la visione 2030 impostata in un vero e proprio progetto comune.